Gentili telespettatori, buona giornata. Per quanto riguarda le bollette, ma c'è il modo di risparmiare, non so, un 10%? Dici, ma io che ci faccio con il risparmio del 10%? La bolletta è triplicata, risparmio il 10% di una bolletta triplicata, quant'è il risparmio? Vi faccio un problemino di matematica. Se la bolletta costa 100 euro e triplica e va a 300 euro, quant'è il risparmio del 10%? Il 10% non è sui 100 euro, ma sulla nuova cifra, 300 euro. Il 10% su 300 euro sono 30 euro. Quindi quella bolletta vi passa solo da 100 a 270. Insomma, meglio che niente, come cavolo risparmio? Il 10%. Con un grado in meno si risparmia il 10%. Se poi voi spegnete completamente il riscaldamento e la doccia ve la fate semigelata e la pasta, non lo so, vi mangiate solo la scatoletta del tonno, quindi non usate il gas, a me viene in mente mia nonna quando si alzava alle 5 della mattina e metteva sulla salsa che cuoceva non so per quante ore. Mi ricordo il pentolone con la salsa, perché era una donna di casa ad altri tempi, quindi la mattina alle 5 lei già pensava al pranzo a mezzogiorno e faceva già la salsa. E mi ricordo quel pentolone di salsa che stava sul fuoco per ore. Immaginatevi quanto gas, oggi si potrebbe fare una roba del genere. Oggi spegni quel gas, che non so come fare neanche per mangiare. Ecco, oggi credo che non si possa più tenere la salsa sul fuoco così tanto. Forse mi mangio una scatoletta di tonno e il latte, lo riscaldo 55 secondi nel microonde, una botta di elettricità. Ecco, riscaldo il latte nel microonde, mi mangio la sera il latte con i biscotti, a mezzogiorno una scatoletta di tonno e basta, e così ho evitato di accendere gas. La luce, apriamo tutte le tende e cerchiamo di stare senza luce. Insomma, se non ci sono i soldi non è che puoi fare altrimenti, non è che dici, ma smettila, ma cosa vuoi risparmiare? Se uno i soldi non ce li ha, non ce li ha. Se uno la bolletta non la può pagare, lascia tutto spento. Non ci sono altre soluzioni. Il livello del prezzo del gas è arrivato a 342 euro al megawattora, il 530% in più in un anno, il 310% da inizio giugno e quasi il 50% in soli sette giorni. I flussi del gas russo verso l'Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1 sono al 20% della sua capacità. Meno gas i prezzi salgono. Poi c'è la speculazione, attenzione, c'è la speculazione. Tutti questi prezzi sono dati dalla speculazione. È chiaro sto fatto? Tra meno di due mesi Milano e Torino, queste grandi città, potranno accendere i riscaldamenti. Pensate un po', con i prezzi così, forse è meglio girare per casa con tre coperte addosso, un bel cappello, una sciarpa e i guanti, quelli da neve, quelli per sciare. Ma dicono che basta abbassare la temperatura di un grado, da 20 a 19, consente di ottenere un risparmio medio di circa 81,90 metri cubi di gas metano per famiglia. Pensate un po'. In media si può parlare di un risparmio del 10,7%, quantificabile con i prezzi del 2022 in 109, qualcosa euro. 19 gradi fa ben freschino a casa, attenzione, 19 gradi è un po', siamo proprio al limite. Il secondo intervento consigliato dall'Enea, che non è qualcosa di mitologico, ma consiste nella riduzione di un'ora al giorno di accensione, quindi un grado in meno, un'ora in meno al giorno, il risparmio per famiglia si aggirerebbe intorno ai 36,72 euro annui. Quindi un'ora in meno al giorno di riscaldamento, risparmio 36,72 all'anno. 3 euro al mese, su 12 mesi. Insomma, se un'ora di riscaldamento in meno l'assommiamo a un grado di temperatura in meno, il risparmio totale in un anno sarebbe 155,63 euro. Insomma, non mi sembra tutto questo beneficio, stiamo parlando di poco più di 10 euro al mese. E poi si potrebbe anche aggiungere l'accensione ritardata del riscaldamento di 15 giorni, cioè se la data è il primo di ottobre si fa il 15 di ottobre, se la data è il 15 di ottobre si fa il 30 di ottobre. Cioè ritardare di 15 giorni l'accensione del riscaldamento. Però a volte, in alcuni inverni, c'è da anticipare il riscaldamento perché ci sono dei giorni all'inverno a volte arriva prima. Quindi posticiparlo addirittura di 15 giorni, insomma, in alcune zone potrebbe comportare veramente dei problemi, perché lo ritardi di 15 giorni risparmi. Sì, ma ritardarlo di 15 giorni è un bel problema, in alcuni casi fa un freddo che... Però, sommando anche questa misura, il risparmio potrebbe arrivare a 178,63 euro all'anno. Un risparmio già abbastanza alto a questo punto. Poi si può contribuire per ridurre il consumo, sostituire i vecchi climatizzatori che si hanno in casa con nuovi modelli ad alta efficienza energetica. installare nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie. Allora, io vi devo dire che prima per riscaldare la casa utilizzavo il gas. Era insostenibile. Insostenibile. Avevo speso, un bel po' di tempo fa, un inverno, ho speso, non un inverno, 1300 euro in un mese di riscaldamento. Adesso ho messo i mini split con l'inverter, c'è un risparmio, dice, dell'82%, io dicevo, sì, vabbè, risparmio dell'82%, chissà che bollette mi vengono, tra luce e gas, e ho detto, mamma mia, mamma mia. Adesso io il gas lo utilizzo solo per cucinare e per fare la doccia. Basta. Riscaldamento, ho chiuso tutto quello che andava con il gas, e ho messo i mini split di una marca famosa e dicono la migliore. E vi devo dire che sto pagando tra riscaldamento d'inverno e raffrescamento d'estate, quindi con l'inverter, il climatizzatore vi fa caldo e freddo, io pensavo una cifra spaventosa, infatti ero lì che stavo attento, esco dalla stanza, spegni subito, spegnilo subito, cerchiamo, perché chissà che bolletta mi viene, alla fine mi è venuta una bolletta di 50 euro al mese, tra tutto, quindi non c'è più luce e gas, ma c'è solo luce, elettricità, 50 euro al mese, e il mio climatizzatore è acceso tutto il giorno, vedete quello là, quello lì è acceso tutto il giorno, realmente se voi sbagliate poi a prendere, andate a prendervi una marca semi sconosciuta, allora lì, siete fregati, dovete prendere una marca di quelle giuste, se no risparmiate sull'acquisto, ma poi siete fregati, vi spendete una fortuna, arrivederci a tutti.